Vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta, ma le cose sono cambiate. Sono padre adesso. Sarò sempre nel tuo cuore. Piccolo Brian, ho un regalo per te. Me l'ha dato tuo padre. E ora lo do a te. È speciale. È per proteggerti. Da ciò che sta per arrivare. Ciao, Tom. E adesso? Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. E il mio è riuscito a raggiungermi. Quanto tempo, Dom. E così abbiamo a che fare con un ladro esperto. Assassino. Pilota ad alte prestazioni. Chi è? È Jacob, il fratello di Dom. Per tutta la vita hai cercato di essere più veloce di Dom. Più in gamba di Dom. Più forte di Dom. Ma sapresti ucciderlo? Io sono pronta se tu lo sei. Non c'è nulla di più potente dell'amore della famiglia. Ma se lo trasformi in rabbia, nulla è più pericoloso. Forse questa è la fine, ma ce ne andremo insieme. Sarei disposta a morire con te. Mettiamoci al lavoro. Non dirmi che è una ponte a caffiero legata al motore di un razzo. Notevole. Lo so. No. Non è... Non è notevole. Ho il culo a fuego! Sono venuto per eliminarti, fratellino. È qui che sbagli. Questo è il mio mondo. Maledizione. Un aereo magnetico? Reggetevi. Non starai pensando quello che penso che stai pensando. Non c'è il ponte! Oh, merda, no! Ciao, ragazzi. Sorpresa. Che pusticino. Garbo! No! Non mi piace! Sc hp! Sc hp. Musta! ili amata! Un problema! Non mi piace! Non mi piace! essizate pixelación? No! Ses 000� Stuffo! Bu wysi 10 minuti! Grazie a tutti.